Nella città di Gerusalemme i capi hanno deciso di prendere Gesù. Hanno cercato i soldati perché escano fuori dalle mura a cercarlo, là dove Giuda sa che si trova e dove ha loro indicato. Vanno i soldati con le fiaccole accese per cercare nella notte e con bastoni e funi corrono per arrestare Gesù e portarlo ai capi che lo aspettano in città ben legato. Li guida Giuda che per pochi soldi il suo maestro ha tradito e sa dove andava con lui di notte per pregare e dove tanti bei segreti gli aveva confidato. Gesù vede le fiamme e sente le grida dei soldati. Si alza dalla sua lunga preghiera e va incontro a loro senza timore perché lo prendano e lo conducano dove i capi hanno comandato. Viene avanti Giuda e abbraccia Gesù e gli dà un bacio e Gesù gli dice Giuda, con un bacio sei venuto a tradire il tuo amico. Afferrano Gesù i soldati, lo legano ben stretto e lo trascinano via in fretta dall'orto degli olivi e lo portano dentro le mura nella casa del sommo sacerdote dove il tribunale che lo vuole giudicare si è già riunito.